La biblioteca italiana vous présente Fontamara de Ignazio Silone Ora, due avvertenze. Questo racconto apparirà al lettore straniero, che lo leggerà per primo, in stridente contrasto con la immagine pittoresca che dell'Italia meridionale egli trova frequentemente nella letteratura per turisti. In certi libri, come è noto, l'Italia meridionale è una terra bellissima, i cui contadini vanno al lavoro cantando cori di gioia, cui rispondono cori di vilanelle abbigliate nei tradizionali costumi, mentre nel bosco vicino gorgheggiano gli usignoli. Purtroppo a Fontamara queste meraviglie non sono mai successe. I fontamaresi vestono come i poveracci di tutte le contrade del mondo. E a Fontamara non c'è bosco. La montagna è arida, brulla, come la maggior parte dell'Appennino. Gli uccelli sono pochi e paurosi per la caccia spietata che a essi si fa. Non c'è usignolo, nel dialetto non c'è neppure la parola per designarlo. I contadini non cantano né in coro né a soli, neppure quando sono ubriachi, tantomeno, e si capisce, andando al lavoro. Invece di cantare, volentieri, bestemmiano. Per esprimere una grande emozione, la gioia, l'ira e perfino la devozione religiosa, bestemmiano. Ma neppure nel bestemmiare portano molta fantasia e se la prendono sempre contro due o tre santi di loro conoscenza, li immanaggiano sempre con le stesse rozze e parolacce. La sola persona che a Fontamara, durante la mia adolescenza, cantasse con una certa insistenza era uno scarparo. E cantava una sola canzone, che rimontava all'inizio della nostra prima guerra d'Africa e cominciava così. Non ti fidar della gente nera, bal di sera. A sentir ripetere quell'ammonimento tutti i giorni dell'anno, dalla mattina alla sera, con voce sempre più lugubre, mano a mano che il calzolaio invecchiava, e la gioventù di Fontamara cominciò a farsi strada un serio timore che il general bal di sera, sia per temerarietà, sia per distrazione o leggerezza, finisse veramente col fidarsi della gente nera. Molto più tardi apprendemmo che il guaio era già avvenuto prima che noi nascessimo. La seconda avvertenza è... In che lingua devo adesso raccontare questa storia? A nessuno venga in mente che i fontamaresi parlino l'italiano. La lingua italiana è per noi una lingua imparata a scuola, come possono essere il latino, il francese, l'esperanto. La lingua italiana è per noi una lingua straniera, una lingua morta, una lingua il cui dizionario, la cui grammatica si sono formati senza alcun rapporto con noi, col nostro modo di agire, col nostro modo di pensare, col nostro modo di esprimerci. Naturalmente prima di me altri cafoni meridionali hanno parlato e scritto in italiano, allo stesso modo che andando in città noi usiamo portare scarpe, colletto, cravatta, ma basta osservarci per scoprire la nostra goffaggine. La lingua italiana nel ricevere e formulare i nostri pensieri non può fare a meno di storpiarli, di corromperli, di dare a essi l'apparenza di una traduzione, ma per esprimersi direttamente l'uomo non dovrebbe tradurre. Se è vero che per esprimersi bene in una lingua bisogna prima imparare a pensare in essa, lo sforzo che a noi costa il parlare in questo italiano significa evidentemente che noi non sappiamo pensare in esso, che questa cultura italiana è rimasta per noi una cultura di scuola, ma poiché non ho altro mezzo per farmi intendere ed esprimermi per me adesso è un bisogno assoluto, così voglio sforzarmi di tradurre alla meglio nella lingua imparata quello che voglio che tutti sappiano, la verità sui fatti di Fontamara. C'è un extrait in lingua originale, par la biblioteca italiana.